Vediamo cosa succederà, però pensiamo fra quattro giorni, speriamo che la butta dentro, che ci fa la 0-1 trofea, forse può cambiare anche un qualcosa, però fin quando lo vedo così dentro al progetto, così dentro alla squadra, io problemi non me ne faccio, quello che voglio dire con tutte queste parole che ho fatto, che in questo momento posso dire tutto quello che voglio, però decide il giocatore, decide l'intoraggio del giocatore, sicuramente non decido io, perché se decidessi io sicuramente lo chiudo, lo invito a casa mia, lo chiudo in una stanza, gli butto in mangiare ogni 2-3 ore e dopo la parte si chiude la porta, le pesce, potrei fare così, però non si può fare così.